È una sola donna che si ispira a uno stile un po' inglese, sartoriale, con questi capotti bellissimi fatti con la nostra lana italiana, con i nostri tessuti meravigliosi e ho voluto dare ad ognuna di loro, a queste ragazze, un colore. Per esempio il mese di settembre è ancora con i riverberi dell'estate, arance e cammello. Il mese di ottobre c'è il verde muschio delle foglie che cadono, novembre l'abbiamo resa un po' più allegra perché questo mese è così uggioso, quindi c'è il fucsia, il giallo, il bluette, eccetera. Poi per i cocktail abbiamo messo questi abiti di pizzo corti con i capellini, con il nastro nero, un po' così birichini direi. Per la sera, la gran sera, io desidero solo e vedo solo gli abiti neri, lunghi, ce ne sono tantissimi nello showroom ma ho voluto rappresentarne solo tre.